Qual è il rapporto tra alimentazione e sistema immunitario? Qual è il rapporto tra alimentazione e sistema immunitario? La protezione del rafforzamento del sistema immunitario, quindi delle nostre difese, attraverso l'alimentazione può essere un aiuto in particolare per i soggetti più fragili come gli anziani. Questo è quanto è stato sostenuto in un articolo pubblicato su BMJ, Nutrition Prevention and Health, rivista Open Access del gruppo British Medical Journal, che si è interrogata sul ruolo che può avere la cosiddetta immunonutrizione nella prevenzione dell'infezione del Covid-19. Secondo gli autori di questo articolo, le vitamine C e D, insieme allo zinco, sono i nutrienti intorno ai quali ruotano le maggiori evidenze di correlazione con la funzione del sistema immunitario. La vitamina C è stata purificata per la prima volta nei primi anni 30 e già da quella volta è stato proposto l'impiego in corso di polmonite. Si sostiene in questo lavoro che sia in grado di supportare la funzione di barriera epiteliare contro i patogeni, la funzione cellulare del sistema immunitario adattivo e innato e di proteggere dallo stress ossidativo causato dai processi infettivi. La vitamina D, dal canto suo, è riconosciuta come un potente immunomodulatore dal momento che i suoi recettori sono presenti in diverse cellule del sistema immunitario, cominciare dai ninfociti B e T e monociti e macrofagi, mentre lo zinco è considerato un vero e proprio guardiano della funzione immunitaria, con un ruolo chiave su più fronti, regola i segnali intracellulari, potenzia la risposta immunitaria, induce la risposta cellula mediata. È una lotta contro il tempo quella che stanno conducendo gli scienziati per far fronte alla rapida diffusione della pandemia. Una strategia ponte, in attesa di vaccino e di farmaci antivirali specifici, potrebbe essere dunque quella di puntare al rafforzamento della funzione immunitaria attraverso l'alimentazione, in particolare nelle persone più fragili e negli over 60. La nutrizione gioca un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Ecco perché si parla di immunonutrizione, ovvero un'alimentazione antinfiammatoria di prevenzione e di molte patologie. Quando si parla di sistema immunitario, naturalmente dobbiamo anche parlare di intestino. Infatti il 70% del sistema immunitario si trova all'interno dell'intestino. Quindi il benessere intestinale è fondamentale. Quali consigli può darci per prevenire il Covid-19? Mi sento di darvi alcuni suggerimenti. Innanzitutto favorire interventi di sensibilizzazione sui benefici di una corretta nutrizione sul sistema immunitario. Cercare di eliminare sovrappeso e obesità, in quanto l'obesità è una vera e propria patologia che provoca un'infiammazione latente di base e che porta ad avere un substrato predisponente alle malattie infettive. promuovere in particolare tra gli anziani l'assunzione di alimenti ricchi di vitamina D e anche una supplementazione, in quanto si è visto che il 90% della popolazione italiana ha una carenza di vitamina D. All'Università di Torino sono stati condotti degli studi e hanno potuto affermare che i livelli ottimali di vitamina D permettono di rispondere meglio all'attacco di virus che colpiscono le vie respiratorie. Il consumo di alimenti ricchi di vitamina D, come per esempio brassicacee, tra cui ritroviamo i broccoli, i cavoli, i cereali fortificati per la colazione, gli agrumi, oppure di zinco, che si può trovare nei crostacei, nei fagioli, nelle uova, o anche assunzione di omega 3 come supplementazione o di alimenti contenenti omega 3, come per esempio il pesce azzurro, il salmone e altri pesci grassi. Questi sono alcuni dei consigli che mi sento di darvi per prevenire non solo l'infezione da Covid, ma anche qualsiasi altro tipo di infezione.